Allora, fra pochi giorni l'Unitalsi celebra una giornata importante, una giornata celebrativa ma anche di condivisione. Sì, la sedicesima giornata nazionale dell'Unitalsi che avrà luogo sabato e domenica in tutte le piazze d'Italia. Noi saremo qui nella diocese di Fano, in tutte le città principali, da Fano fino all'entroterra. Anzi, quest'anno avremo anche delle piazze nuove dove non siamo mai stati, la chiesa di San Sebastiano a Bellocchi e Serravalle di Carde a Pecchio, perché siamo riusciti ad arrivare finalmente fino agli estremi confini della diocesi. È una giornata importante nella quale i volontari offrono questa piantina di olivo in cambio di un'offerta che servirà a finanziare le attività dell'Unitalsi e in particolare la partecipazione delle persone malate. È una pianta che ci rappresenta molto perché l'olivo è il simbolo della pace, il ramoscello d'olivo, ma è anche una pianta che va curata così come noi ci prendiamo cura dei malati. E anche l'oliva quando si mette a marinare si dice si mette a curare, quindi è una pianta che ci rappresenta e che vorremmo che fosse in tutte le case. Noi abbiamo assistito e curato per tanti anni un malato che è stato abbandonato da piccolo perché quando i genitori sono accorti che era gravemente disabile lo hanno abbandonato e quando questo ragazzo è morto sulla sua tomba abbiamo piantato uno dei nostri olivi. Purtroppo quest'anno quest'olivo è stato sradicato e è stato rubato dal cimitero, una cosa che ci ha ferito molto anche perché noi teniamo la dignità dei malati sia da vivi ma anche da morti. E allora vogliamo ripiantare l'olivo su quella tomba e vi chiediamo se non volete proprio acquistarlo di fare un'offerta ai volontari. Queste offerte comunque andranno per la dignità dei malati. Grazie a tutti.